I tatuaggi dietro le orecchie sono piccoli e discreti, una vera e propria tendenza moda apparsa negli ultimi anni. I design delicati risultano particolarmente apprezzati dal pubblico femminile, soprattutto se posizionati in zone non troppo evidenti o appariscenti. Stai pensando ad un nuovo tattoo ma ti mancano le idee? Nel post di oggi troverai 20 proposte accattivanti e originali, a cui non potrai resistere. Un tatuaggio dietro l'orecchio con fiori. Tutti li amano, tutti li vogliono. Ogni fiore possiede significati differenti, amore, speranza, gioia o coraggio. Hai l'imbarazzo della scelta. Puoi inoltre sbizzarrirti con colori, forma e design di ogni tipo, da personalizzare a tuo piacimento. I tatuaggi floreali di piccole dimensioni sono raffinati e femminili, perfetti per la zona dell'orecchio. I fiori più gettonati? Senza dubbio le rose, simbolo della passione per eccellenza. Due tatuaggio piccolo dietro l'orecchio con farfalla. Una scelta molto popolare tra la clientela femminile, poiché simbolo di bellezza, libera, trasformazione, crescita e cambiamento positivo. Le farfalle sono tatuaggi versatili, si adattano a diverse parti del corpo, compreso l'orecchio. Se ami i design graziosi e delicati, un mix di fiori e farfalle potrebbe essere ciò che stai cercando. Tre tatuaggi o stella dietro l'orecchio. Le stelle rappresentano la speranza, una guida luminosa all'interno dell'oscurità. Simboleggiano messaggi positivi, perfetti per lasciarti alle spalle i periodi bui della tua vita. Puoi anche dedicarle a qualcuno, come una guida spirituale che porti sempre nel cuore, Esistono diversi design tra cui scegliere, carinissimi se tatuati dietro l'orecchio, dalle semplici stelline a cinque punte, avere e proprie costellazioni, anche collegate al segno zodiacale. Quattro tatuaggio a forma di forbice. Cerchi un'idea inusuale ma significativa. La forbice rappresenta l'eliminazione delle influenze negative dalla vita, nonché l'automiglioramento. Affina i tuoi istinti, costruisce l'indipendente se ti insegna a prendere il controllo delle decisioni. Le forbici comunicano voglia di ricominciare, lasciando da parte i capitoli chiusi. Sono piccole e versatili, perfette per la zona dall'orecchio. Cinque tattoo con drago. Sono generalmente unisex, una scelta interessante sia per uomini che per donne. Hanno diversi stili e design, da plasmare in base alla personalità del richiedente. Posseggono numerosi significati profondi, tra cui il potere, la saggezza e la protezione. Puoi decidere di tatuarti un draghetto anche se segui l'astrologia cinese e sei nata nell'anno del drago. Un piccolo tatuaggio con questa mitica figura, è una scelta grintosa e divertente. Sei tatuaggio con scritte dietro l'orecchio. Molto bello se posizionato in zona orecchio, poiché discreto, non accessibile a tutti. Puoi scegliere di tatuarti il nome di una persona speciale, un termine importante, un avvenimento particolare. Scegli il fonte con attenzione, sempre basandoti sui tuoi gusti personali. Decora la scritta con stelline, cuori o minifiori. Se ti piace, la calligrafia a mano dona al tatu un aspetto unico e raffinato. 7 Tatuaggio con colomba. Un'idea molto delicata e dolce, la colomba infatti, rappresenta ideali positivi come pace, amore, perdono, nuovi inizi e speranza. Per i cristiani inoltre, raffigura la fede in Dio. Se scegli di tatuarla dietro l'orecchio, opta per un design ben delineato, che risalti quando decidi di rivelarla. Puoi anche aggiungere una croce o un ramo d'olivo per sottolineare l'aspetto spirituale. 8 Tatuaggio dietro l'orecchio con elefante. Questi mastodontici animali sono sempre più apprezzati tra gli estimatori dei tatuaggi, soprattutto le donne, sono immediatamente riconoscibili e rappresentano la saggezza, la prosperità e la fortuna. Non solo, gli elefanti sono spesso associati ad intelligenza, buona memoria, pazienza e lealtà. Un piccolo elefante posizionato dietro l'orecchio è una scelta originale e accattivante, esteticamente molto gradevole. 9 Tatuaggio semplice. La zona dietro l'orecchio è ridotta e poco spaziosa. Scegli un disegno nitido, senza troppe ombreggiature o dettagli minuziosi. Tra le opzioni più popolari, troviamo design singoli e semplici, come una stella, un iniziale, una croce o un fiore. Questi tattoo catturano l'attenzione con eleganza, hanno meno possibilità di sbiadire con il tempo e sono molto sexy. I risultati migliori si ottengono utilizzando esclusivamente l'inchiostro nero. 10 piccoli tatuaggi dietro l'orecchio. Sono una tendenza del momento, molto poco invadenti ma super allettanti. Scegli design minuti, dall'aspetto fine e delicato. Anche semplici forme geometriche o note musicali, possono risultare idee carinissime. Il consiglio in più, il tatuaggio dietro l'orecchio fa male. Un disegno piccolo renderà il dolore più sopportabile. 11 tatuaggio con ancora. Le ancore simboleggiano la speranza, un luogo sicuro alla fine di un lungo viaggio. La solidità. Sono perfette come design di coppia, purché davvero unita, oppure per gli amanti del mare. Il design, semplice e pulito, può essere arricchito a tuo piacimento, per esempio con qualche dettaglio in stile retro. 12 tatuaggio dietro l'orecchio con angelo. L'angelo rappresenta la fede, la parte migliore di te stesso, la guida spirituale e le persone care. È un disegno profondo e importante. Se posizionato nella zona dietro l'orecchio, si distingue per il suo design semplice e pulito, senza troppi fronzoli. L'idea in più? Tatuati una piccola ala, intensa e femminile. 13 tattoo con acchiappasogni. Gli acchiappasogni sono oggetti tipici delle culture appartenenti alle popolazioni nativa americane. In antichità venivano tessuti da madri e nonne per proteggere bambini dagli incubi. Nel linguaggio dei tatuaggi, questi accessori simboleggiano sicurezza e protezione contro le energie negative. Se ti piace l'idea, considera molti dettagli personalizzabili, come la forma del cerchio, le piume o i colori. Come sempre, opta per un design semplice e non minuzioso. 14 tatuaggio piccolo dietro l'orecchio con piume. Un'idea simpatica sia per uomini che per donne, perfetta da disegnare su zone poco spaziose del corpo. Sono belle anche a colori, rappresentano la voglia di libertà. Scegli una piuma per tatuaggio se ami viaggiare, ti piace la natura e ti consideri uno spirito libero. Il disegno perfetto? Una piuma leggermente curva si adatterà perfettamente dietro al tuo orecchio. 15 tatu piccolo a cuore. È uno dei simboli più diffusi in assoluto, un evergreen sempre molto popolare, soprattutto tra le donne. È piccolo e semplice, ma estremamente potente. Se posizionato dietro l'orecchio, funge da promemoria per non scordarti di ascoltare il cuore. Può rappresentare l'amore vero, da dedicare a una persona speciale. Puoi personalizzare il design in molti modi, per renderlo unico e originale. 16 tatuaggi tribali. Audaci, grintosi, sexy e provocanti. Sono versatili e popolari, si adattano perfettamente ad ogni zona del corpo, compresa la parte posteriore vicina all'orecchio. Esistono diverse varianti tra cui scegliere. I simboli polinesiani o maori rendono omaggio alla famiglia, i tattoo tribali in stile. Anni 90 posseggono significati meno profondi, ma sono molto belli da vedere. Non hai paura di osare? Estendi il tatuaggio fino al collo o alla spalla. 17 piccolo tatuaggio dietro l'orecchio a croce. Simboleggia la fede verso Dio, i valori morali puri e onesti, il design semplice pulito si adatta perfettamente alla zona piccola e delicata. Non sempre la croce rappresenta la fede, molte persone amano semplicemente questo simbolo, decidendo di tatuarlo pur non ritenendosi cattolici praticanti. 18 albero tatuato dietro l'orecchio. Nel linguaggio dei tattoo, l'albero raffigura la conoscenza, la crescita interiore, la protezione ed una vita lunga e prosperosa. Puoi sceglierlo anche se sei amante della natura e della madre terra. Per mantenere il design semplice ma d'impatto, opta per una silhouette nitida, eseguita esclusivamente con inchiostro nero. 19 piccola luna tatuata dietro l'orecchio. Si tratta di un'idea magica e misteriosa. Le varie fasi lunari rappresentano il cambiamento. In generale, la luna è spesso associata all'energia femminile. Un piccolo tatuaggio a forma di luna renderà irresistibile il tuo collo. La luna piena simboleggia la magia e la trasformazione. La mezza luna raffigura l'equilibrio perfetto. Lo spicchio di luna fortifica il flusso di energia, in continua evoluzione. 20 cover up tattoo. Sei stanca del tuo vecchio tatuaggio e vuoi coprirlo? Fortunatamente oggi è possibile farlo. Sicuramente il disegno risulterà più grande del precedente. Dovrà adattarsi a forme e colori già esistenti, in modo da oscurare completamente il vecchio tattoo. I design semplici sono più facili da coprire, quelli elaborati richiedono una mano esperta e creativa. Affidati ad un buon tatuatore e non avrai problemi. Domande frequenti dove si fa il tatuaggio dietro l'orecchio? Si esegue nella porzione di pelle posizionata dietro l'orecchio, verso il collo. Una zona discreta e delicata, molto sensuale soprattutto per le donne. Si presta bene per design piccoli e semplici. Il tatuaggio dietro l'orecchio fa male? Purtroppo la risposta è sì. È considerata una delle zone più dolorose. In quest'area infatti, la pelle è molto sottile e delicata, basta poco per causare fastidio e disagio. Pensaci bene prima di procedere. Può causare problemi sul posto di lavoro? Alcuni mestieri non amano i tatuaggi, soprattutto se grandi e vistosi. Quando scegli la il tuo stile di vita, fortunatamente, la zona dietro l'orecchio è molto discreta. Puoi facilmente coprirla anche con i capelli sciolti. Cosa fare prima e dopo il tatuaggio? Cerca di bere molta acqua e cibati correttamente prima del tattoo. Idrata la pelle ed evita sostanze aggressive come l'alcol. Una volta terminata la procedura, mantieni la zona asciutta e applica l'apposita lozione consigliata dal tuo tatuatore. Lava e disinfetta il disegno due volte al giorno, fino a completa guarigione. Potrebbe interessarti anche, tatuaggi nascosti, galleri con idee e foto da copiare e venti tatuaggi con orologio per uomo, per restare al passo con i tempi. Tatuaggi scritte, 100 più idee da copiare con foto e significato tatuaggi farfalle idee originali da copiare con foto e consigli le 5 migliori creme per proteggere i tuoi tatuaggi dal sole.